a bentornati ragazzi sul canale qui si gioca siamo ancora alle prese ovviamente con Hogwarts legacy con il nostro buon Alan Reed allora ci eravamo lasciati tutta volta avevamo fatto delle missioni e dell'incarico per la professoressa Eckett che ci ha insegnato l'incantesimo incendio ora dobbiamo tornare nell'aula del professor Figg perché perché ha notizie sul medaglione vediamo un attimino di ricapitolare un attimino la situazione e devo tornare al professor Figg e informarlo del fatto che ho preso incendio perché mi pare che poi dovevamo andare una volta preso questo incantesimo nella biblioteca perché lui aveva trovato una sorta di mappa e noi su questa mappa avevamo visto la magia antica insomma segnare il luogo della biblioteca più precisamente della zona proibita mi ricordo così più o meno e quindi niente torniamo da lui vediamo come progredire però avevo visto prima di iniziare il video che qui c'era eccolo lì tipo un fiaccolozzo che io posso accendere credo con appunto incendio però non lo becco da qua ma non è una fiaccola raga ma non ce la faccio proviamo da qua se no chi se ne frega proviamo da qua ehm no allora una cosa che si illumina mo ehm riparo leviosa aspettate che c'ha dovevo mettere qua dove sta eeeh proviamo con questa o se no niente incendio non ci arrivo vabbè allora niente mi rimetto incendio qua che eeeh che tanto mi servirà e forse mi conviene a questo punto mettere leviosa sul b che al reparo insomma leviosa mi serve anche per i combattimenti quindi magari è meglio allora eeeh vado vado da dal professor figs ah sta proprio dentro l'ufficiozzo eh permesso buongiorno ma non c'è ah devo aspettare intanto che aspetto buttamosene un revello sparamos un reveglio e niente aspettiamo dai aspettiamo l'arrivo del professor fig ah eccoti qui ah perché era notte forse non lo so salve signore sarà lieto di sapere che ho lavorato alle mie abilità difensive con la professoressa Eckhart ho sentito mi ha riferito che te la cavi bene con la bacchetta nuova e niente questo devi continuare a esercitarti con lei e con gli altri professori per migliorare le tue abilità detto questo non voglio rimandare ancora la nostra visita alla biblioteca ok andiamo avanti fig ha un lavoro per lei venga preside sono con uno studente il mio programma il suo programma aspetterà così come anche il suo studente dopo tutti i problemi che mi ha causato con Oserick pensavo che sarebbe stato ansioso di rimediare nel mio ufficio tra cinque minuti mamma mia c'è una scopa al culo questo il uomo è esasperante purtroppo la nostra visita al reparto proibito dovrà aspettare ancora un po' ma professori non abbiamo scelta non sarebbe saggio provocare ulteriormente il nostro illustre preside verrò a cercarti una volta assolto agli obblighi che mi attendono quindi niente biblioteca per il momento che si fa? parla con Sebastian mi dice come missione però come sempre allora andiamo a vedere la mappa perché magari nel frattempo si è sbloccato qualcos'altro invece no parla con per accedere al reparto proibito devo convincere Sebastian Selow a rivelarmi come fare lo si trova spesso nei pressi dell'aula di difesa contro le arti oscure andrò a cercarlo lì va bene quindi Sebastian era il terpe verde quello che ci ha fatto il duello all'inizio che poi mi ha mandato diciamo al club dei duellanti dovrebbe essere quello se la memoria non mi inganna ma a me la memoria mi inganna facile quindi ma è sicuro che sta a dire una cavolata eh magari vediamo dai mi pare che sta parte l'avevo spulciata di solito vicino agli uffici principali alle aule insomma ho fatto quello che dovevo fare poi magari ci stanno cose che dovrò sbloccare con altri incantesimi e comunque ancora non mi c'era a capezzo tutte ste sale ste scale eccolo ma non è lui ah si è lui dai che ne so a che fare con il rano senti cominciamo a fidare di qualcuno eh rookwood collabora con runrock che vuole una cosa che ho trovato alla gringot runrock e tu quando hai visitato la gringot io e il professor fig ci siamo finiti dopo l'attacco del drago una storia pazzesca fig aveva questa passaporta la passaporta per la gringot non credo di capire fidati neanche io ed ero lì comunque siamo finiti in una vecchia camera blindata dove c'era una mappa e quella mappa porta al reparto proibito non dirai sul serio assolutamente sì il professor fig mi ha ordinato di non parlarne ad anima viva probabilmente l'ho già detto troppo capisco custodirò il tuo segreto qualunque esso sia grazie sebastian hai detto che sei abbastanza in gamba da non farti scoprire nel reparto proibito e lo ripeto raggiungimi davanti alla biblioteca stanotte e non dirlo a nessuno e se ci scoprono cioè se inchiappettano che succede se ci scoprono a frugare nel reparto proibito saremo messi in punizione ma un paio di consigli che potrebbero tornarti utili per prima cosa evita pixel poltergeist se c'è una cosa che gli piace a parte andarsene in giro a far danni è fare la spia su quelli come noi ok quanto dovrei preoccuparmi della bibliotecaria madama skribner non tollera attività clandestine tra i suoi preziosi tomi quindi devi cercare assolutamente di evitarla io e lei abbiamo avuto i nostri screzi ma riesco a tenerle testa a te potrebbe non andare altrettanto bene grazie sebastia ci vediamo dopo poi l'ho spiattellato tutta sebastia però cioè alla fine me devo cominciare pure a fidare di qualcuno no ok quindi ah già sta qua ma così ci ha sparato così ma ci ha sparato così fatemi vedere un po' una cosa infatti non ci stanno altre missioni attive va bene perfetto vado eh ma qua ci sono mai stato boh va bene la vedi è la porta che dobbiamo raggiungere e quei fastidiosi dei prefetti non aspettano altro che denunciarci della Scrivener quindi non farti vedere da loro intesi sarò un'ombra andiamo aspetta un momento c'è una magia che dovresti imparare l'incantesimo di disillusione è utile per andare nei posti che ti sono proibiti lancialo e improvvisamente sembrerai una semplice illusione ottica purché te ne resti a distanza e in silenzio vuoi dire che potrò veramente diventare invisibile qualcosa del genere non è infallibile come un mantello ma quelli sono costosi mentre gli incantesimi beh quelli sono gratis prova ok allora impariamo disillusione vediamo un po' nuovo incantesimo sbloccato usa disillusione per evitare arrivamento creare proibite quindi basta che cammino e vado piano piano ok però lo devo equipaggiare dove sta dove sta questo lo metto a posto di levioso dai per il momento ok quindi scendiamo ma ciccio tu vieni con me gli avversari vicini percepiranno e indacheranno se notano un comportamento sospetto essere sorpresi da una figura a causa il fallimento della missione alla finché grigio percepiscono quando è giallo indagano se me beccano so cazzi vabbè vabbè aspetta però no aspetta un attimo ho capito ma damme tempo però no vabbè poco male se li fa dai quindi questo viene con me no no vabbè allora se io sparo subito questa ok vado piano piano però presumo non mi avete perfetto ma ovviamente se lancio il revelio qua vabbè però questa è la la sala la sala principale lì si accedeva alla biblioteca questo me lo ricordo ma vado quello mi vede quello l'altro sta indagano no dove mi ha visto no aspettate c'è qualcosa che mi sfugge c'è qualcosa che mi sfugge vada quella a sinistra sicuramente non mi ha visto perché stava alle spalle quell'altro però mi vede però scusa io ero mimetizzato vabbè riproviamo allora dove va facciamo facciamo piano facciamo piano così non mi vede ma il problema è qua devo aspettare che se muovono o se mettono le spalle in qualche modo ma quello sta lì davanti però come cazzo faccio ma faccio così veloce accidenti la bibliotecaria è ancora qui presto dietro la libreria ok paura maledizione avevi detto che la bibliotecaria non ci sarebbe stata a quest'ora ho detto che di solito non c'è ma non preoccuparti vedi la sua scrivania dietro di me la chiave è nel cassetto di quella scrivania senti cosa faremo io creerò un diversivo per farla allontanare tu recupera la chiave ci vediamo davanti al reparto proibito vabbè è una domanda stupida però aspetta perché ci serve la chiave non c'è una magia adatta alomora intendi è così che entravo sempre prima ma la bibliotecaria deve averlo capito e ha lanciato un incantesimo anti alomora sulla serratura ora l'unico modo è prendere la chiave ma non preoccuparti ho detto che ti avrei fatto entrare e lo farò fidati mantengo sempre la mia parola ma sto alomora non è che me lo potresti insegnare no ho capito dove è nato questo ma ecco lo sta là vai vai sei tu aspetta oddio c'era una chiave pure ho sentito una chiave di quelle da armadietti eccola qui la chiave ok damose 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 eh sento la chiave ormai però non è il momento di andare a cercare la chiave ma grande non è stato poi così difficile dopo tutto ora devo trovare quel libro ok questa me vede ancora qua cioè se io lancio ah lo posso far da da occultato perfetto va bene scusi eh intanto mi prendo questo non posso prendere niente allora con calma equipaggiamento equipaggiamento porca miseria dove andrà bene qualcosa non mi vado a distruggerla perché poi non ti da non ti da niente se distruggi capito quindi cioè ci avevo provato non posso più distruggermi vabbè forse questi dai uno uno di questo un po' sfogno vabbè vabbè ho capito vanno a penne una cifra di roba cerca vedi occhiali legno e oro attenzione equipaggiamento mi voglio vedere sono curioso legno e oro mi voglio vedere che poi sono verdi eh mamma mia mamma mia mamma mia vabbè la prima cosa che vado a rompe poi eh poi c'è Degri se distruggo un oggetto anche la sua che è questo quello è incantato ti appare più utile di quel che è mi ha già fregato due volte mai fidarsi delle apparenze dico io dicevo se distruggo un un equipaggiamento anche la sua forma estetica viene persa questo non ci ho mai fatto caso dopo vedere la prossima volta che è questo che è svolazzo ho visto una cosa ma lo posso prendere usa l'incantesimo base senza farti scoprire per attirare figure d'autorità e nemici verso la posizione desiderata la modalità mira ok dove sta il fantasma lì io non ho vedo il fantasma ma ce l'ho dietro cazzo c'è un nano vabbè ripeto allora e aspettate che la situazione garbugliata allora 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 questo che ci faccio questo ah potevo semplicemente rompere vabbè no ma non potete lasciare fuori in pace fuori di qui eh vabbè eh per vedere porca miseria dai ma non che ricomincio da capo mannaggia a meno per vedere sempre vedete il becco qualcosa volevo via quella pagina che svolazzava sto fammacello ecco questa è una missione stealth stealth allora vabbè però ricomincio da qua alla fine alla fine insomma ci può stare o vado diretto poi i fantasmi non me li segna o me li segna vabbè questo l'ho capito fantasma non farti vedere dove sta sto carano è carano ma se io sparo qua tipo ci va lei a vedere no se io sparo questo ok è andata a vedere quindi andiamo velocemente da qua porca tiscio via libera possiamo camminare normalmente ok no vabbè dai allora cos'è che stai cercando sto cercando una cura per mia sorella gemella en così potrà tornare a hogwarts visto che gli altri sembrano averci rinunciato perché pensi di trovare la cura nel reparto proibito la direttrice dell'infermeria di hogwarts non ha niente per aiutare en no abbiamo interpellato chiunque dall'infermiera blaney al san mungo ma posso condurre le ricerche da solo non preoccuparti di me ora pensiamo a quello che stai cercando tu che di preciso eh lo saprò quando lo vedrò quando si dice essere fiptice non ne ho idea di quello che sto quello che sto cercando questo qui c'è non lo so dica questi va buono sta zitto sta fermo le cose che si muovono qua che spettacolo ragazzi attenzione qui è molto proibita la situazione ok che si muovono è una di quelle statue che mi serve il dios quindi mo questa la rimetto qui intanto mi sa che quello non mi serve più che mi serve è vero ok e abbiamo sbloccato le 25 pagine quindi la sfida è stata sbloccata mo fatemela vede un attimino quel che mi dava tanto sicuro non lo posso portare aspetto ok un aspetto va bene questo ce lo prendiamo ne trova 50 e poi dovrei aver finito con ste pagine ma un'altra 50 voglio di le ultime saranno catastrofiche per cercarle dopo lo vediamo sto aspetto mo andiamo avanti lì c'è qualcosa da vedere qui c'è una giornata un manico di bacchetta va bene no guarda guarda chi c'è no Sebastian Sallow e compagnia che feccano il naso dove non dovrebbero ai 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 ora siete nei guai PIX non osare faccio la spiglia faccio la spiglia faccio la spiglia faccio la spiglia no maledetto PIX devo fermarlo o quantomeno andare dalla bibliotecaria con una buona scusa non metterti nei guai ci so fare con gli insegnanti quando si tratta di questioni disciplinari e poi adoro avere amici in debito con me ora va e buona fortuna con la tua ricerca dai vabbè dove è andato quel maledetto Poltergeist conosco proprio l'incantesimo giusto per riparare questa armatura ah ecco allora riparo e riparo 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 non so perché mi tengo ancora accendito ok va bene qua che c'è un altro corsiere che palle però non mi va distruggerli però questa roba devo piare perché poi non ci torno più ma intanto ci torno so che ci torno però distruggo questi regali dove non ti torno più niente però forza ora c'ho due slot in più uniforme scolastica tartan l'intensione con blazer va bene poi la vediamo qua si scende scalacchio io non riasco un solo deficiente a scendere scalata vi ho tutti i muri in faccia attenzione attenzione già vedo lì un cassone una cassa pancona dove dove deve esserci altro da scoprire ah si ecco però aspetta un attimo fermate ma io io mi abbiamo prima sotto niente scese per un altro lo posso sapere qua vado ma posso arrivare ah ok indago dopo scusa ma questo me lo voglio fare sharp ottagno del petardo cinese ora andiamo dai ecco fatto ok si è apparsa una porta mi ci infilo lo so finito regà andiamo giù vediamo un po' che c'è lì c'è un altro un altro forziere ma perché ma perché c'è che me danno sti forziere quando li apro niente e me ci avevo un posto in più vabbè chissà dove conduce ma non capisco sti forziere regà veramente non qui ho preso il coso va bene questa qua che non mi piace ma tengo questa poi ho preso questo che non mi piace e questo distruggo pure guarda subito proprio così senza pensacce questo perché c'è il lucchetto qua ah no questo è una cosa che c'è ma non posso portare perché non c'è il livello ok quindi c'è uno slot adesso equipaggiamento 19 su 20 ma c'avevo pure ah no non c'avevo prima quindi qualcosa mi ha dato qua non c'è sta scarpa ma la tengo per un momento da un tocco di colore così però che cosa mi ha dato vabbè andiamo dai l'ateneo sto registra allora 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 come c'è vado della come ci vado della devo risvegliare quella runa laggiù hai capito aspetta qui c'è una cosa che è questo era facile vado è sicuro nemichi quelli sono nemichi venga ma che sorpresa se le guardie è pronte a combattere che è perché ah ma diorchica distrutto la magia antica ne posso utilizzare ne posso utilizzare due e si ricarica che sono quelle due barrette blu ok accumuli magia antica mandando a segno gli attacchi e subendo danni le combo di almeno dieci colpi girano potenzialmente di magia antica raccogliendoli riempiando ovviamente l'indicatore ok che era quello che dicevo e recupererai anche una piccola quantità di salute ma quali sono sti cosi ah sono sti sci e qua ok sono sti queste quando almeno un segmento del tuo indicatore magia antica è pieno puoi scatenare di devastanti attacchi con la magia antica che infliggono danni notevoli spezzano gli incantesimi scudo ok vado quindi questo qua perfetto mi ricarica della magia antica mo ma qua c'è qualcosa da no quella forse era un oggetto che potevo lanciare eh questi sono già hai visto no ok ma reggiorno so fortissimo so fortissimo allora ora ok lì non ci posso andare oddio aspettate perchè mo devo capire come funziona intanto ora ho visto qui un che è uno scrigno quello regà ma figurale oddio sto un pizzo un pizzo un pizzo allora se io colpisco questo a me se mamma mia mamma mia che agilite che agilite grande che c'è qua niente devo scendere giù semplice credo si prosegua di qua ma per andare dove eh per andare dove devi andare ma la controlliamo bene questa roba che sta con c'è non c'è più però vediamo un po' fermo 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 un attimo no no aspetta che sento gente che no non è vero non sento nessuno questo rimane vado eh ah no per cazzo quello aspetta fermate ma fatemi capire come funziona ma ma se io vado qua ci sono quasi meglio mantenere la lucidità ok scrigno forsiere ce l'ho un po' sono no perché non vorrei che ogni volta che tu avrei che non c'è spazio te li toglie però non mi pare che era così quindi un posto ce l'ho solo su quell'altro tipo di forziere mi posso dobbia completato aristocratico allora ma non c'ho più posto quindi equipaggiamento vediamo se ah questo non lo posso rompere perché è quello che porto questo è verde e difesa 23 però non c'ho nient'altro cioè non c'ho questo è vero che mi fa difesa 18 però c'ha gli slot questo è verde allora questo qua lo distruggo anche se mi dava un po' più di difesa adesso ma serve un altro spazio lo libero un altro spazio perché qua c'è un altro forziere ma presumo questo ci sia manco per niente pensavo i soldi invece occhiali da sole cagliati questi aspetta un po' occhiali da sole potrebbero essere interessanti ah 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 questi si possono guardare ma che sto fa su occhiali ok va bene va bene e vado eh qui vedo tanti cavalieri eh occhio che qui sono tanti dai uscite fuori oh e via ok ok finiti no finiti no grande non è nato via 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 Allora era davvero un libro Eh sì Ah, un pensatoio Vai, immergiti Ah, ma proprio Vedete che questi sono quelli che hanno creato Hogwarts Grazie 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 Mi è giunta voce che tu ti stia ambientando bene qui a Hogwarts. È così. Ne sono lieta. Soprattutto considerando quanto è insolito iniziare dal quinto anno. Si dà il caso che anch'io fui ammesso ad Hogwarts al quinto anno. Non conosco altri casi come il nostro. Signorina Morganac, ieri dopo la lezione mi hai chiesto di quelle belle spirali che vedesti ormai anni or sono quando visitammo il tuo borgo. Vi ho riconosciuti immediatamente. Non so come ringraziarvi per l'aiuto. È stato un piacere. Eh sì, quel giorno vidi delle spirali di magia ovunque. Mio padre insiste nel dire che devo essermele immaginate, ma a me sembravano reali. Infatti non te le sei immaginate. Percival, il professor Rackham le vede. Ma fino ad ora lui era l'unico. Io non capisco che cosa sono. Si tratta di sospiri o per meglio dire di tracce che appaiono solo con una specifica magia antica. Magia antica? Sono in pochi coloro che la sanno usare. In vero la stessa Hogwarts è un baluardo della magia antica. Quindi se riesco a vedere questa magia antica vuol dire che posso usarla? Con la giusta preparazione. Ma non è il caso di avere fretta, signorina Morganac. Prima che io possa addestrarti a una tale magia, devi riuscire a padroneggiare tutto ciò che Hogwarts può offrirti. Una magia del genere può essere dannosa nelle mani sbagliate. Deve essere usata solo da pochi prescelti. Pertanto ti chiediamo di non svelare a nessuno ciò di cui abbiamo parlato oggi. Beh, non so i fondatori di Hogwarts questi, eh. Pensavo... Dai nomi non so loro, però, insomma... Quindi anche noi siamo prescelti. Ma come? Ancora una volta nel reparto proibito. Pensavo avessi smesso di combinare guai. Evidentemente le punizioni non bastano. Temo proprio che sarò costretta a riferirlo al preside. Ma... Tutto questo, tuttavia, Pix mi ha detto che non sei venuto da solo questa sera. Se qualcuno ti ha costretto, ti esorto a dirmelo. Non perdiamo l'amicizia. Non sbrecare questo dono. Non c'è nessuno. Sono da solo. Che grande. Oh, Sebastian. Cosa dirà tuo zio adesso? Ah, stronzo. Ok, missione completata. Livello 13. Ottimo. E... Che devo fa? Per ritorno nel lavoro è il professor Figg. Allora, per ritorno nel lavoro... Qua non c'era... Io ho visto una chiave prima quando stavo qua. H la chiave. Dov'hai? Oddio, ma l'ho persa. E qua? Ah, eccola. Perfetto. Mo' stiamo 20 minuti qua a schiacciare sta chiave. E poi se salutiamo... Dai, che mo' parti? No. Anticipato troppo, regà. Non spiaccicare la cosa sia gratis. E mo'... Arco cane, porco cane. Adesso me li gioco, eh... Bastardo, eh. Niente. Mi la posso fare, regà. Niente. Vabbè, allora facciamo così. Mo' la rifaccio io. Non ve preoccupate. Allora, noi per il momento... Ci salutiamo qui. Poi prossimamente ritorneremo dal professor Frigg. Racconteremo tutto. Poi vedremo anche le sorti di Sebastian. Perché ci ha coperto. Quindi alla fine si è rivelato un buon amico. Io per il momento vi saluto. Vi ringrazio. E vi do appuntamento al prossimo episodio. Ciao a tutti. Ciao a tutti.